Alle 13 in via Bastie di Porto Bufolè, all'unità 5 della Friuli in Tagli, torna la calma. Gli operai vanno a mangiare, gli ultimi mezzi dei vigili del fuoco rientrano al comando. Alle 7.30 di questa mattina uno scoppio ha interrotto il lavoro del primo turno che attacca alle 6. Viene da fuori e la sottostazione di filtraggio dell'impianto di aspirazione delle polveri a prendere fuoco. Il boato è udito in tutto il reparto. I dipendenti prendono gli idranti e li azionano. Immediatamente arrivano altri colleghi. Tutti hanno fatto il corso antincendio in poco tempo. Con un lavoro di squadra d'eccezione evitano che le fiamme si propaghino anche al mobilificio. La linea 5 si occupa di levigatura. Qui la Friuli in Tagli produce il tamburato per grossi marchi come Ikea. I corsi di formazione, come si dice, servono. Per fortuna non è successo niente di grave, è solo una sottostazione che ha avuto un problema. I dipendenti sono stati bravi e hanno spento subito. Difatti quando sono arrivati i vigili del fuoco il problema era già risolto. Il sindaco Andrea Sebastiano Susanna potrebbe essere presente proprio alla Fru in Tagli lunedì. La stessa azienda infatti lo aveva invitato alla prova antincendio già calendarizzata per il 5 dicembre. Soddisfazione per la preparazione e la prontezza dei lavoratori da parte della direzione aziendale. L'intervento dei pompieri arrivati con due squadre si è reso necessario per le operazioni di bonifica del sito. Ma al loro arrivo le fiamme erano già state spente e tutti i protocolli attivati. La linea 5 è stata ferma per alcune ore. La sottostazione è andata completamente distrutta. Ma già poche ore dopo l'allarme alla Fru in Tagli era rientrato e la situazione tornata alla normalità. Noi abbiamo delle aziende che sono veramente un fiore all'occhiello. Sono tenute molto bene e oltre che essere tenute bene all'interno sono tenute bene anche all'esterno. Il nord-est è veloce, ci rimbocchiamo subito le maniche e mettiamo a posto il giorno dopo. Sicuramente oggi pomeriggio la sottostazione anche di questa azienda sarà già cambiata e sarà già in funzione domani mattina alle 8.